Tante le strutture alberghiere aperte e sulla riviera romagnola nel periodo pasquale saranno circa 1250 con a disposizione ben 84 mila posti letto. Aperti anche 1200 tra ristoranti, pubblici esercizi e aziende agrituristiche. Dunque apertura quasi generale per il weekend pasquale che da tradizione rappresenta il via ufficialmente alla stagione sulla riviera romagnola. Tante altre opportunità offerte per una Pasqua anche all'insegna della cultura, del benessere e dello svago. Aperti i 12 parchi di divertimento presenti fra Ravenna e Cattolica con esclusione di quelli acquatici che apriranno a giugno, sempre più graditi e frequentati. Completano l'offerta turistica pasquale della riviera romagnola, l'apertura di diversi campeggi, le proposte di divertimento di locali, discoteche, pub e disco bar. Dal 9 aprile per esempio la spiaggia di Rimini si animerà con la 22esima edizione della Coppa del Mondo di Frisbee Paganello in competizione oltre 1200 atleti provenienti da 25 nazioni. Tanto sporta anche sulla spiaggia di Riccione dove dal 9 al 15 aprile si svolgerà il Beach Line Festival con centinaia di campi di beach volley e migliaia di appassionati a sfidarsi dai due lati della rete. Anche la vela entra in attività a Cesenatico dal 7 al 9 aprile con le sempre più rinomate a livello internazionale vele di Pasqua. Sempre a Cesenatico lunedì prossimo alle ore 8 prenderà il via la quinta edizione della Pantanissima, la gran fondo ciclistica dedicata alla indimenticabile pirata Marco Pantani.